Ciao, siamo qua per la prima prova dell'Honduro Cup Lombardia a Tavernierio, i percorsi si sviluppano tutti sul monti qua sopra il lago di Como, bellissimi, dei trail veramente divertenti, oggi sarà una bella gara, l'ambiente vedo che sono tutti preparati e sereni e speriamo di fare bene, meritava inizia a girare qualche weekend. Sarà dura. Qui sono pronti eh Davide? QSL va bene. E' super pulita la traiettora, anzi fin troppo. Fin troppo, si è, tirata lucido, perfetta. Sono delle parti molto belle, divertenti, ho fatto un bel lavoro, bravi. Comunque è una bella gara anche nel senso di tutto il giro, comunque il panorama, andasse due volte a Brunate, comunque è una dura ma bella. Bellissima la gara, bellissima, che stupende, a Bombazza, muoli il freno e vai. Due, uno, vai. Ha dettato due, quasi. Comunque vediamo a fine giornata cosa succede. Per i prossimi due anni sicuramente ok, è vero Silvio. Quindi grazie ancora a Simona e grazie a tutti. Francesco, pregona! In prima posizione abbiamo Christen, Manuela. Allora ci vediamo a Colico al 22 giugno, belli carichi, dopo questa esperienza. Ciao ragazzi, tutti a Colico. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, in bocca al lupo.